Ciao ragazzi, dopo mesi di lavoro insieme al Team Pantene, finalmente il 6 luglio sveleremo un'iniziativa bellissima a supporto delle donne imprenditrici. Per me è una causa super importante che mi sta super a cuore essendo donne, essendo imprenditrici e sapendo benissimo quanto il supporto e la visibilità possa aiutare a far carriera in una società come la nostra. Abbiamo anche girato una campagna bellissima con tante altre donne che non sono modelle ma sono donne imprenditrici e hanno una storia super interessante da raccontare. E per supportare questo progetto abbiamo creato una limited edition di un shampoo e di una maschera per capelli di Pantene e non vedo l'ora di svelarvi tutto quanto il 6 luglio e sono super contenta. Quando ci sentiamo bene con i nostri capelli ci sentiamo più forti, determinate a realizzare i nostri sogni. Nuovo Pantene by Chiara Ferragni. Protegge la cheratina. Capelli 100% più forti. Forti come noi. Pantene e Chiara Ferragni sostengono le donne imprenditrici più forti insieme. Pantene by Chiara Ferragni. Pantene e Chiara Ferragni. Pantene. Grazie per la visione! Grazie a tutti!